La Giunta regionale della Sardegna ha istituito la figura della consigliera di parità su indicazione dell'assessore lavoro Virginia Mura. Si tratta di un profilo previsto dal Ministero del Lavoro che la stessa istituzione deve formalizzare con un decreto a firma del Ministro Poletti. La designazione è caduta su Tiziana Puzzolu, esperta di diritto del lavoro e di statistica che ha svolto negli anni attività di studio e ricerca presso l'Università di Cagliari. È stata dal 2010 al 2015 consigliera di parità della provincia del Medio Campidano. Sua sostituta sarà diretta Mureddu, psicologa, la quale è stata responsabile negli ultimi anni del centro donna della CGL Sarda. Le lavoratrici o i lavoratori possono rivolgersi alla consigliera di parità tutte le volte che ritengono di aver subito una discriminazione nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera e nelle condizioni di lavoro in ragione del genere. La consigliera può anche agire se la discriminazione è contenuta in accordi aziendali, in procedure di concorso e comportamenti che penalizzano le lavoratrici o lavoratori a causa dell'appartenenza ad un genere. La consigliera inoltre interviene con l'obiettivo primo di ricomporre col consenso delle parti le controversie e può rivolgersi al giudice del lavoro anche in via d'urgenza a tutela dei lavoratori o lavoratrici oggetto di discriminazione. Grazie a tutti.